Eccoci qua, è gratuito, prima sgambata sulla nuova Lamborghini Urus, il Super SUV, così definito. Già mettendo la marcia si parte in seconda, quanta coppia ha, imbarazzante direi. E in effetti... Chiaramente non si ha quella percezione di precisione allo sterzo che normalmente si percepisce su una Lamborghini che ha un'altezza da terra relativamente bassa, però è anche vero che siamo in modalità soft strada, per cui mettendo in sport attraverso il comando anima, già questo comportamento cambia grazie anche alle sospensioni pneumatiche. Apparazzante la coppia, già a 2000 giri. Apparazzante la coppia, già a 500 metri suoi sp-1f. Apparazzante la coppia, già a 100 metri suoi sp-1f. Apparazzante la coppia, già a 100 metri suoi sp-1f per 6 km. Apparazzante la coppia, già a 100 metri suoi sp-1f. anche il rumore nonostante il turbo è gradevole, molto ben sintonizzato direi Preparer to turn left Preparer to turn left after 600m at the stop sign onto the SP-11B Now turn left